E allora eccoci qua, sesta puntata di questo Black Friday e andiamo a vedere quali sono gli smartwatch in promozione. Vi ricordo prima di iniziare, come sempre, acquistate questi smartwatch sulla mia vetrina Amazon, amazon.it slash shop slash Alex Smart. A voi non costa niente in più, a me arriva una piccola commissione. E quindi iniziamo subito. Per questo sesto giorno di Black Friday vi ho messo, prima di tutto, tutta la serie Huawei. Continua la promozione su Huawei Elegant, Watch GT Elegant, che trovate a 120€ con un risparmio di circa 24€. Vi ho poi messo anche la versione standard, diciamo così, del Watch GT, che invece trovate a 142€ rispetto ai 199,90€ del prezzo di listino. E poi vi ho messo anche l'Active, che secondo me è molto interessante, perché è la versione immediatamente successiva al Watch GT classico, che vi viene 124€ con un risparmio di 35,12€ rispetto al prezzo di listino. Ho poi messo anche i Sunto, che secondo me continuano ad essere molto interessanti, il Sunto Traverse, che viene prezzato a 229,90€ con un risparmio di ben 189€. E poi vi ho messo, rimesso, dovrei dire, perché l'avevo già messo in un altro Black Friday, ma la promozione continua. Ho messo per l'appunto il Sunto 9 ad un prezzo di 287,90€ con un risparmio, udite udite, di ben 211€. Quindi circa il 42%. Vi è poi il Fitbit Charge 3, che viene prezzato a 99,90€ contro un prezzo di 149,95€ con un risparmio di 50€. E infine vi ho messo anche uno Smartwatch con Wear OS. Si tratta del Diesel, Diesel che viene prezzato a 244€ con un risparmio di 124,7€ sul prezzo originale. E direi che questo Smartwatch può essere utile soprattutto a quelli che apprezzano il sistema operativo Wear OS di casa Google. Per finire ho messo lo Smartwatch che Amazon indica come il più venduto sul proprio marketplace, e che fa parte della promozione Black Friday. Si tratta del Willful, che sostanzialmente è un po' un clone di Apple Watch, almeno nell'aspetto fisico, che viene prezzato a 36,68€ contro un prezzo di 48,99€ con un risparmio quindi di circa il 25%. È tutto per oggi, ci vediamo domani con il Black Friday Day 7, per aspettare infine il vero e proprio Black Friday, che dovrebbe arrivare per l'appunto di venerdì, in cui mi aspetto insomma un po' di botti, perlomeno per quanto riguarda gli Smartwatch. Like, iscrivetevi al canale e ci vediamo per l'appunto domani. Ciao a tutti!